Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Renato Pozzetto nasce il 14 luglio 1940 a Milano, da padre italiano, Armando, e madre svizzera, Clementina, quest'ultima originaria di Malvaglia, cantone Ticino, tre, ultimo di quattro figli, trascorre inizialmente l'infanzia a Gemonio, dove la sua famiglia si era rifugiata in quanto costretta a fuggire da Milano a seguito dei bombardamenti sul capoluogo Lombardo in piena Seconda Guerra Mondiale. Durante la sua permanenza a Gemonio avrà modo di conoscere e frequentare quella che poi sarà la sua spalla comica Aurelio Ponzoni, detto Cochi, anche gli sfollato a Gemonio. In seguito la famiglia torna nuovamente a Milano, dove Pozzetto, dopo aver studiato all'Istituto Tecnico per Geometri Carlo Cattaneo, matura le sue prime importanti esperienze nell'ambiente del cabaret. Un grande dolore per Renato Pozzetto, è morto tempo fa il fratello, Ettore è morto all'età di 91 anni, Ettore Pozzetto. Il fratello del noto attore Renato, si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicini in questo momento. Si legge nel messaggio pubblicato dalla moglie Lucia e dai figli Rossella e Riccardo. I funerali si svolgeranno lunedì 25 luglio nella chiesa di San Pietro a Gemonio, in provincia di Varese. Grazie a tutti! Grazie a tutti!